Come fanno capri pazzi, fino alla settimana scorsa si poteva stare, ma ora invece è tremendo, c'è trova proprio l'energia. Ma come è schifo questa canzone? Aspetta Olco, c'è l'altro che non vedrà. No vabbè, ma pure che cambi, comunque la troviamo sicura da qualche altra parte, quindi assolutamente. Cioè questa è la prima volta che l'ho sentita a gennaio, secondo me c'è la fanno, fino al 2000 e 1000, proprio all'una. Ma sai cosa mi fa incazzare? Mi fa incazzare che sono sempre gli stessi testi, sempre gli stessi canzoni, tra la stessa struttura. Ma questo poi chi è? Di che iglesias? No, 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 questa è falsissima. Vabbè, per me sono tutti gli iglesiasi. Sai che fanno? Congellano prima dell'estate, fanno sempre gli stessi pizzi e poi congellano, andate a voto per niente. Va, va. Va. Despacito, quiero respirarti un cuello despacito, Dega che te dica cosa sa l'ho oído, Para che ti acquerdesino e stas conmigo. Despacito, quiero descontarmi a peso despacito, Firmé la parete è stato un laberinto Chi ha seguito un cuore una tutto un manoscritto. Sopè, suopè! Come si sono tornati non fissi. Non fissi. È proprio il pezzo più brutto della storia della musica. Adesso siamo amori, passioni... Brava, io vorrei sentire un pezzo sudamericano su un Natale. Bravo, va pure il ritmo, senta? Si, 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 si. Vabbè, mamma mia, tu. non vuol dire niente